Le idee che aprono una strada, lasciano le proprie impronte per sempre. Trasformano il mondo, permettono di guardarlo in modo diverso, seguono il suo movimento, ne interpretano i sogni, i bisogni, le passioni. Per comunicare il proprio mondo, Pirelli mette l'arte al servizio dei propri prodotti, facendo dialogare tecnologie e cultura attraverso le emozioni. Artisti internazionali si sono lasciati ispirare dalla versatilità della gomma, offrendo suggestioni e immagini senza tempo. Un patrimonio custodito con passione, che vive nelle strade di tutto il mondo e in un libro straordinario. Le tracce del viaggio Pirelli guidano verso il futuro.